Sono circa 5.000 le persone che nella nostra regione soffrono di disturbi alimentari, ma i numeri potrebbero essere superiori perché non tutti chiedono aiuto. Dati importanti anche quelli nell'Ulstre. Il fenomeno riguarda persone molto giovani, per cui noi abbiamo un picco di incidenza che va dai 15 ai 20 anni, ma con esordi anche molto più precoci. E questo appunto è l'aspetto più rilevante. Nel nostro servizio noi abbiamo attualmente in carico 120 persone e se andiamo a vedere quelle che poi abbiamo seguito negli ultimi anni raggiungiamo punte di 350 persone che hanno fatto dei percorsi. Parliamo di percorsi anche di un certo rilievo dal punto di vista della durata. Un fenomeno silente che va affrontato. Per questo l'Ulstre ha deciso di potenziare il servizio pubblico di aiuto inaugurando una nuova sede ambulatoriale a Marghera in via Silvio Pellico. Dobbiamo mettere assieme psicologi, psichiatri, medici nutrizionisti, dietisti ed educatori che lavorino per questo progetto. Abbiamo una cucina perché vogliamo fare anche delle attività di laboratorio proprio correlate all'avvicinamento, alla fobia rispetto al cibo. Il tentativo di dare una risposta alla popolazione che vive e soffre di questo problema. Un problema che riguarda la persona, riguarda prevalentemente le giovani donne ma sicuramente riguarda anche molto le famiglie e il contesto in cui queste malattie si esprimono. Per questo è fondamentale un lavoro sinergico che coinvolga più soggetti. Oggi tutti i social network diramano modelli a cui i ragazzi si ispirano che sono modelli finti. I ragazzi ricchi in Lamborghini, le modelle iperperfette, i modelli con gli addominali scolpiti. Ecco, non è quella la realtà, però i nostri ragazzi che sono già fragili in quella fascia d'età tendono a identificare quella con la realtà e fanno il possibile per arrivare a quello. Allora davvero dobbiamo azzerare questo tipo di messaggio diseducativo e raccontare un mondo diverso. Per farlo ovviamente non basta la parte medica, non basta la politica, tutta la comunità deve farlo. L'accesso al servizio di via Pellico può avvenire con l'impegnativa del medico di famiglia oppure per appuntamenti e prime visite telefonando direttamente allo 041-2608-328 il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 19.30.